Prima di iniziare a guardare il video, iscriviti al canale e metti mi piace. Nel vasto mondo della musica italiana, Emma Marrone si conferma come una delle artiste più amate e celebrate. La sua carriera ha avuto inizio molti anni fa con la partecipazione al noto talent show televisivo e da allora la sua ascesa è stata inarrestabile. Con una serie di album e singoli di successo, Emma ha conquistato il cuore del pubblico, aggiudicandosi anche diversi riconoscimenti nei festival musicali, culminati nella recente vittoria. Tuttavia, la sua storia prende una svolta toccante quando, dopo dieci anni dalla lotta contro il tumore, riceve una chiamata dal medico. Quindici giorni fa, il telefono di Emma squilla e l'ansia di dover ricominciare tutto da capo si diffonde. Tuttavia, la notizia è positiva. Gli ultimi esami confermano che Emma è definitivamente fuori dalla malattia. «In quell'istante sono morta e risorta», dichiara la cantante, sottolineando la forza interiore che l'ha guidata attraverso la sua battaglia. Oggi Emma sta bene e ha ritrovato la grinta che la… caratterizza nei suoi concerti. Nonostante sia ancora single, sembra apprezzare la sua attuale situazione senza escludere la possibilità di innamorarsi nuovamente, ma senza una ricerca spasmodica di un compagno. La sua storia è un inno di resilienza e trionfo, ispirando i suoi fan in tutto il paese.